ci troviamo al centro cecilia per la creatività e oggi la giornata internazionale la disabilità e per questo facciamo una domanda carmela ad evo dell'associazione da un sicuramente questa è stata una giornata importante ricca di testimonianza ricca di tanti messaggi ma cosa rimane di questa giornata così significativa secondo me rimane la partecipazione dei ragazzi che ritengo fondamentale perché la nuova cultura sull'approccio alla persona con disabilità parte dai giovani riuscire a coinvolgere i giovani anche in maniera giocosa con questo gioco del cervellone ha fatto sì che per loro certi temi certi termini non fossero più così estranei e io mi auguro che questo lavoro che abbiamo iniziato oggi con loro mi auguro che sia già iniziato a scuola ma se non fosse già successo che questo dia il via affinché certe tematiche vengano trattate anche con gli studenti